I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ieri e stata trovata purtroppo senza vita nella gravina in località Madonna della Stella, una donna di 80 anni, sul posto sono intervenuti i carabinieri, polizia, polizia locale, i vigili del fuoco con un elicottero e il soccorso alpino e speleologico per il recupero del corpo dal ponte Acquedotto da cui l'anziana potrebbe essere caduta anche se si teme possa trattarsi di suicidio.